si chiama Olga Skabeyeva già vi ho parlato di lei in uno dei miei video e torno a parlarvene proprio oggi 20 settembre 2022 perché proprio questa donna presentatrice russa di una tv di stato parlando dei funerali della regina Elisabetta avrebbe diciamo così detto una frase che in qualche modo può gettare molta paura nonché molta ansia in chi eventualmente la può diciamo così prendere sul serio in particolare avrebbe detto che la frana russia avrebbe dovuto lanciare una bomba atomica su londra durante i funerali della regina Elisabetta parole queste che io penso il debuto considero quindi di fuoco di fiamme chiameggianti che ovviamente non gettano felicità non gettano fama non gettano diciamo così allegria in chi le va ad ascoltare ma anzi secondo me gettano soltanto tanta ansia tanta paura e tanta preoccupazione insomma non è una situazione facile non è una situazione felicissima a mio avviso e dover ascoltare o comunque vedere che ci sono persone come questa donna russa che addirittura compie o meglio riporta una frase del genere a mio avviso è letteralmente allucinante nonché assurdo da narratori italiani di YouTube è tutto ciao a tutti